è stata un'ottima riunione molto costruttiva anche il presidente era molto soddisfatto abbiamo affrontato tanti temi importanti speriamo di continuare così si mettono le mani nelle tasche dei comitati regionali questo da qualche parte bisognerà prenderti questi soldi per cui tutti d'accordo per forza ma il clima con il nostro presidente è stato molto sereno lui molto disponibile ascolta sempre le opinioni di tutti e questo è molto importante